Stavo pensando a un modo per racchiudere tutto, tutte le notizie che avevo da darvi perché non ci sarà un focus principale del video ci saranno tanti argomenti che andremo a truccare e mi è venuto in mente il fritto misto perché c'è di tutto un po' senza un topic principale e quindi fritto misto, abbiamo deciso di chiamarlo così questo video e voglio partire subito dalle Juventus Women che ieri sera purtroppo sono usciti dalla Champions ma devo dire che hanno fatto un percorso veramente indimenticabile io ho visto una delle prime partite di questa stagione delle donne dal vivo eravamo a Barcellona nella bruttissima serata in cui Juventus maschile e femminili hanno preso una valanga di scoppellotti dal Barcellona appunto maschile e femminile e sembravano distanti dagli standard europei e invece devo dire la verità, alla fine si sono fatte valere quindi brave ragazze nonostante tutto vere Juventine Scandala Champions, DNA ragazzi, una brutta bestia quindi ce lo facciamo andare bene c'è OneFootball da scaricare qui sotto in descrizione applicazione che vi permette di rimanere sempre aggiornati su tutto quello che accade nel mondo del calcio scaricatele immediatamente ragazzi perché è la vigilia del ritorno della Serie A e ovviamente è l'antivigilia di Juventus Inter domani parlano se vengano a Ligri Tra l'altro partiamo dal fatto che è il primo di aprile e quindi girano un sacco di pesci d'aprile non credete a sta bufala, a sta fake news, a sto pesce d'aprile non fatevi pescare con il fatto che l'Italia verrà ripescata perché bla 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 io credo che non avverrà mai questa cosa quindi mettetevi il cuore in pace e ovviamente keep calm ricordatevi che oggi è l'1 aprile quindi qualsiasi puttanata veramente arriverà fuori di tutto e di più quindi ricordatevelo questo è un consiglio da amico diciamo prima finalmente antivigilia e quindi antivigilia significa che abbiamo alcune informazioni a disposizione della Juventus che ci fanno andare in una certa direzione e cioè formazione titolare perché ci sono delle novità ci sono dei recuperi e questa è una cosa assolutamente positiva Vlaovic ha svolto tutto l'allenamento in gruppo da giorni ormai Zaccaria ha partecipato a un amichevole che ha fatto la Juventus qualche giorno fa contro una squadra di Serie C è totalmente recuperato si candida addirittura per una maglia da titolare potrebbe prendere il posto di Arthur oppure quello di Rabiot vediamo immagino non quello di Locatelli che dopo essere tornato al Covid secondo me sarà uno dei titolari però vediamo potrebbe anche essere un discorso legato al fatto che si però si è allenato con la Nazionale la prima partita l'ha saltata la seconda ha giocato pochi minuti e quindi potrebbe riposare lui vediamo dipende molto da quello che avrà in mente Massimiliano Allegri bene o male c'è un ballottaggio centrocampo abbiamo quattro centrocampisti e tre posti dico tre posti perché do quasi per scontato che si giocherà con tre centrocampisti ormai siamo arrivati a un punto che l'abbiamo capito Allegri si ha la possibilità lo fa anche se non è la possibilità in realtà ci prova lo stesso perché magari adatta qualcuno come Danilo nell'ultima partita con la Salernitana quindi mi viene naturale dire che sì saranno tre i centrocampisti Zaccaria potrebbe partire per un minuto e ci sono motivi da una parte e dall'altra per dire Rabiot perché Rabiot Artur perché è stato via con la Nazionale Brasiliana è uno degli ultimi rientri abbiamo parlato qualche settimana fa insieme a Danilo Locatelli per quello che abbiamo detto prima potrebbe accadere di tutto quindi rimaniamo concentrati perché un ballottaggio aperto dovrebbe rimanere Alexandro ha svolto parte degli allenamenti dovrebbe essere recuperato pure lui non pare dal primo minuto ricordiamocelo Luca Pellegrini è squalificato quindi a sinistra viene naturale pensare a un ballottaggio Alexandro oppure Mattia De Sciglio ah giusto mi stavo dimenticando perché sul fritto misto c'è una scaletta qui davanti c'è un'altra questione che è uscita nella giornata di ieri e cioè è relativa a quello che è accaduto al Napoli per la sfida contro Juventus che si è svolta in gennaio quando loro vengono schierano tre giocatori che erano sottoposti a quarantena e schierano lo stesso titolari sappiamo tutti che cos'è successo ieri non ne ho parlato per scelta perché tutto quello che avevo da dire sulla questione l'ho detto all'epoca quindi immediatamente dopo quella partita non ho nient'altro da aggiungere vi invito a guardare quei video vi faccio un riassunto il campo ha decretato 1-1 per me è 1-1 non voglio pensare anche qua che potrebbero venire fuori cose strane del tipo 3-0 a tavolino erano già circolate ieri però rifacendo il discorso del pesce d'aprile magari oggi queste notizie verranno incrementate per alimentare la fake news burlona e quindi no penso che non accadrà potrebbero esserci anche presupposti ma penso che non accadrà il campo ha detto 1-1 è pareggio per me rimane quella roba lì dall'altra parte dico che spero che a livello non monetario ma a livello anche magari penale le persone che sono state coinvolte possano pagare perché quello lì è stato uno smacco secondo me incredibile va fuori dalle logiche sportive quindi mi tengo stretto l'1-1 però sono contento che qualcosa si sia mosso vediamo che cosa accade nel lato sportivo non c'è nient'altro a dire se non quello che è già stato detto in tutti gli altri video vi invito a recuperarli magari se volete una presa di posizione a 360 gradi c'è da parlare di Rudiger c'è da parlare di Rudiger perché nelle settimane scorse nei giorni scorsi avevamo anche nominato Rudiger molto vicino alla Juventus addirittura alcuni organi di formazione lo davano quasi per fatto un Rudiger che arriverebbe a parametro zero dal Chelsea e grazie al decreto crescita potrebbe guadagnare qualche soldino in più rispetto a tante altre parti Rudiger in realtà starebbe aspettando di capire cosa accadrà con il Chelsea perché non sarebbe triste di dover continuare con una squadra con cui ha vinto praticamente tutto negli ultimi due anni i trofei internazionali più ambiti e dove è diventato un vero e proprio difensore di altissimo livello quindi sta aspettando di capire cosa accadrà lato Chelsea e nel frattempo ascolta più voci infatti ieri Sky Sport ha diffuso le immagini dei procuratori di Rudiger che erano a Barcellona a parlare con il Barcellona e quindi anche il Barcellona si unisce ufficialmente ai club che vorrebbero tesserare Tony Rudiger a parametro zero vediamo cosa succederà dall'altra parte qualche giorno fa proprio una roba più fresca è riuscita una notizia che in realtà Rudiger vorrebbe 30 milioni di una firma ecco in quel caso credo che la Juventus non uno non due 10, 20, 30 passi indietro quindi non è fatta Rudiger però la Juventus rimane interessata anche perché dall'altra parte c'è il discorso Chiellini dovremmo capire un attimino come gestirlo e soprattutto il discorso dell'It che non deve andarsene dalla Juventus poi bisogna parlare di Massimiliano Allegri perché ovviamente domani come abbiamo detto parlerà parlerà ai microfoni per la vigilia della partita e sarà la prima volta in cui Allegri ufficialmente parlerà davanti ai microfoni con la certezza che Di Bala non sarà più un giocatore della Juventus e qua vi voglio fare la domanda secondo voi Paolo Di Bala sarà titolare in Juventus Inter sì o no questa cosa andrà a scombussolare un po' Allegri anche nelle scelte di formazione oppure lui arriverà alla fine dell'anno scegliendo se fregando se ne diciamo così di quello che è il futuro di quello che è stato deciso nei confronti di Paolo Di Bala che secondo me non cambierà niente però voglio capire se domani può essere partita no domenica purtroppo domenica può essere partita per Paolo Di Bala dal primo minuto poi ieri sempre inerente Allegri erano circolate alcune robe perché è stato intervistato da non mi ricordo nemmeno quale giornale come sempre nauseabonde stocchevole questa discussione tra chi ama Allegri chi odia Allegri chi dice Allegri è bello chi dice Allegri è brutto Allegri è bene Allegri è male Allegri è detto bene Allegri è detto male Allegri è più divisivo non lo so chi è il personaggio nel mondo più divisivo in assoluto forse Massimiliano Allegri cioè se sfoglio il vocabolario personaggio divisivo c'è la foto di Massimiliano Allegri madonna se Allegri scoreggia uno dice che è buono l'altro dice che no non è vero puzza è incredibile ogni volta che Allegri apre bocca anche se non l'apre anche se è un'intervista si è riportata boom il finimondo non si perde mai l'occasione per dire oddio incredibile ha detto una cosa fantastica oppure ma che deficiente non capisce veramente nulla va 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 circa l'ho detto ieri quando ho letto che la Juventus sarebbe interessata Cristante Brian Cristante che proprio Allegri aveva fatto esordire ai tempi del Milan e che è diventato un campione d'Europa si è laureato campione d'Europa con l'Italia questa estate un fedelissimo di Mancini che anche l'altra sera ha fatto un bel gol di testa un giocatore abile nelle palle alte nel gioco aereo un centrocampista particolare devo dire la verità quest'estate lo consideravo molto scarso in realtà guardando un po' l'europeo mi sono ricreduto ma rimango di idea che Cristante non sia un giocatore dal primo valore tecnico dal primo valore assoluto quindi sarebbe il classico giocatore che entra nel centrocampo perché di questo stiamo parlando per dare un senso numerico in più alla questione stiamo parlando di una cifra abbastanza vasta intorno ai 15 milioni di euro lui arriva eventualmente perché non c'è niente di fatto da giocatore maturo perché è un classe 95 quindi io ne faccio 30 e sono del 92 meno 3 anni sono 27 quindi il momento migliore della carriera sicuramente non ci saranno picchi elevati in cui potrà diventare chissà che cosa giocatore utile a completare il reparto e nulla più sicuramente non un titolare sicuramente non un top player sarei un po' perplesso nell'arrivo di Brian Cristante perché sono qua a immaginarmi nomi che ti facciano cambiare il volto al centrocampo invece questo non è un nome sì non è che sono qui a dire no se prendiamo Cristante faccio come Bonucci mi incateno ai cancelli di Vinovo però non sono nemmeno qui a dire oh ragazzi abbiamo fatto il colpo del secolo eh abbiamo preso Brian Cristante insomma giocatore che può essere utile nulla più e niente queste sono un po' di notizie sparse che vi volevo dare il fritto misto è terminato fatemi sapere se è stato di vostro gradimento anche ieri o ieri l'altro non ho fatto due video per un motivo avevo portato le chiacchierate la prima lunghissima con Kino e Lello e la seconda ieri con Neschio volevo fare in modo che potessero essere gustate al cento per cento e quindi non andare a caricare altri contenuti che potevano togliere attenzione con la roba lì volevo farvi rimanere lì concentrati belli e tranquilli ascoltarvi di stile podcast spero che vi siano piaciuti ho cercato di avvicinarci alla gara di Juventus Inter il migliore dei modi ovviamente se usciranno altre notizie su cose non pesci d'aprile fake news oggi pomeriggio ci rivediamo se no appuntamento a domani direttamente con la conferenza stampa di Massimiliano Allegri ragazzi arriva Juventus Inter non mi sembra vero grazie a tutti